Continuano ad alto impatto operativo i servizi di controllo straordinario del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa con la condivisione dei comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a seguito delle tematiche di settore approfondite in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Tali servizi svolti sistematicamente a Ragusa in ambito provinciale hanno l'obiettivo di incrementare la sicurezza grazie alla presenza delle forze dell'Ordine e dalla loro azione sul territorio. Servizi dedicati e mirati controlli hanno interessato infatti il centro storico e la periferia di Ragusa e Tibla ma anche Vittoria e Santa Croce Camerina sono stati interessati ad un'intensa ed efficace azione operativa. Nel contesto di tali servizi sono state controllate 708 persone, 268 autovetture, effettuate 10 contestazioni per la violazione delle norme del codice della strada. Inoltre sono stati controllati circa 100 cittadini stranieri con approfondimento della loro posizione amministrativa anche attuale sono state effettuate due espulsioni dal territorio nazionale. In tale contesto è stata posta l'attenzione anche al rispetto delle regole amministrative di sicurezza da parte degli esercizi commerciali.